Un fantomatico medico telefona ad un'anziana dicendo che la figlia è in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un virus contratto. Per salvarle la vita serve un'iniezione urgente di un farmaco proveniente dalla Svizzera del costo di 18.000 euro. Questo l'ennesimo caso di truffa ad anziani registrato dalla polizia di Fano che questa volta ha individuato il responsabile del raggiro, ovvero un truffatore capace di utilizzare stratagemmi molto persuasivi compreso quello di travisare al telefono la voce della figlia in questione e convincere l'anziana in preda al panico a racimolare soldi e gioielli per 7.000 euro consegnandoli in fretta e furia ad un uomo che le si presenta alla porta. La donna solo successivamente denuncia l'accaduto alla polizia e il responsabile viene identificato grazie ad un attento esame di videosorveglianza così come viene fermato alla stazione ferroviaria dagli agenti. Nell'occasione i poliziotti rivengono anche parte dei gioielli sottratti e il truffatore consegna volontariamente 1.600 euro a parziale risarcimento della vittima. L'uomo è stato segnalato per il reato di truffa al pari di un altro truffatore fermato dallo stesso commissariato. Un malvivente che utilizzava un modus operandi analogo sostituendo di fatto il virus con un grave incidente stradale. Anche in questo caso la malcapitata anziana in preda allo sconforto risponde alla richiesta di 4.100 euro raccogliendo tutto quanto di valore in casa tra cui la fede di nozze, anelli, lingotti d'argento, orologi e un coglie d'oro consegnando tutto ad un sedicente avvocato presentatosi sotto casa. Realizzato l'inganno e alertata la polizia l'accurato esame di videosorveglianza ha rintracciato l'auto sospetta dell'uomo a Forlì con all'interno tutti i gioielli sottratti alla donna. L'uomo a bordo del veicolo è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.